Siccome vi sono le università e il campo CONI sarà oggetto di una ristrutturazione importante, naturalmente l'amministrazione comunale ha deciso di concerto con la nostra organizzazione di trasferire Sportates a Parco Manganelli. Io devo ringraziare l'amministrazione comunale perché è stata rapida nel decidere per questa nuova situazione, sia sotto l'aspetto dell'impegno burocratico sia sotto l'aspetto politico. Per le misure di dettaglio e per le ultime questioni ci sarà una riunione da breve con l'amministrazione comunale, con il Comune, però è anche un'occasione importante questa per rivalutare Parco Manganelli. Sì, noi presenteremo assieme all'amministrazione comunale i dettagli di questa nuova concezione della manifestazione che è divenuta molto importante e ha avuto anche significativi apprezzamenti pure fuori dall'Italia. Però praticamente per i dettagli, viste alcune situazioni di criticità come alcune situazioni positive, noi ne parleremo in futuro. Sarà di fatto che questa manifestazione ci pone nella condizione di essere molto più responsabili in quanto la superficie che occupa Parco Manganelli è di tre volte superiore a quella del Campo Coni. Per cui, diciamo, dobbiamo organizzare bene per dare delle risposte e per, come dicevi tu, rivalutare Parco Manganelli che secondo me già si valuta da solo in quanto è una bellissima struttura. Ma naturalmente noi siamo abituati ad apprezzare poco le nostre bellezze perché è stato sempre diciamo uno sport preferito di noi altri. Grazie. 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 Grazie.